buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com ben ritrovati in questo nuovo video oggi per farmi perdonare del video saltato di ieri questo video sarà più lungo per la vostra gioia andiamo sempre su lices.org non perché sia un sito particolarmente simpatico ai miei occhi ma è l'unico che mi permette di costruire delle freccine mentre guardiamo gli altri partita in corso rapid vediamo una partita appena cominciata se ce n'è se non ce n'è questa qui 2300 punti contro 2002 siamo in una siciliana almeno da quello che mi pare di capire torniamo indietro e 4 c5 sì siciliano sì ok d4 mi sembra che il nero non se la passi particolarmente bene ok adesso g6 oppure c'è qualcosa ci si può fare qualche sacrificio così si può fare qualche sacrificio lì questo va fatto io lo farei subito adesso ma proprio senza pensarci dai dai quel cavallo va dato quel cavallo va dato dallo dallo dai il cavallo dai il cavallo dallo mamma mia che bello che è che bello quel cavallo lì mamma mia e poi gli entra di torre alfiere 7 raddoppi la donna e non può arroccare no 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 eccesso di prudenza eccesso di prudenza beh d'altronde 2003 ne saprà un pochino di più no dopo l'analizziamo comunque per cercare di capire anche questa è caruccia ma l'altra 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 ci piaceva di più l'altra era più cattiva eh l'altra era più cattiva aspetta c'era no non era un problema questa vedi 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 cosa vuol dire vedi allora adesso ci può essere ci può essere un c3 in modo tale che la donna controlla qui ed è anche una buona mossa in generale c3 e su cavallo qui eh cavallo qui c'è questa cavallo c7 quindi quella non può essere fatta e su cavallo c5 invece ci sarebbe dato che abbiamo giocato c3 ci sarebbe b4 quindi ci sarebbe ci sarebbe se donna cattura qui cavallo qui quindi c3 secondo me a questa mossa è la difesa migliore però bisogna vedere che cosa sta architettando sta giocando sta pensando a cavallo c3 per tenere tutti e due potrebbe anche essere potrebbe anche essere vediamo un po' che cosa giocherà il bianco se ci sorprenderà con effetti speciali o vuole sacrificare così l'alfiere uh cavallo c3 ok ok nel turno del nero che adesso c'è sempre un problema su questo pedone e quindi probabilmente lo spingerà presumo 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 se lo spinge c'è cavallo sacrificio su pedone cavallo donna e si perde questo alfiere però c'è sempre cavallo c7 quindi forse d5 non può essere giocata per via del sacrificio del cavallo sul punto d5 e non è bella questa posizione si potrebbe giocare che se gioca che se gioca e non è una bella posizione non mi piacerebbe essere nei panni del nero neanche un po' alfiere 7 niente semplicemente si lascia ah giusto giusto se si fa questa eh si si perde solo un pedoncino no? scacco alfiere donna che non fa roccare eh penso che il bianco abbia abbia un bel vantaggio un bel vantaggio interessante chissà cosa sarà architettando se non catturare su di sé vediamo se c'è qualcos'altro perché il bianco non me la racconta giusta il bianco sta confabulando qualcosa qualcosa di interessante forse alfiere f4 per aumentare ancora di più la pressione su questo punto e ovviamente andando a supportare a raggi x l'entrata del cavallo su a8 anche se a seguito dell'arrocco il cavallo in c7 non è non è un problema quindi secondo me bisogna approfittare ora però vediamo anche qui che cosa ci riserverà alfiere f4 ho giocato si però vabbè il pedone te lo prendi sicuramente a seguito dell'arrocco cavallo alfiere alfiere torre in d8 e alfiere c7 bam bomba 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 bravo bianco bravo bravo non l'avrei giocata ma era giusta era giusta cavallo e se dopo cavallo c'è subito torre niente quel cavallo può andare in c4 non lo so vediamo vediamo un po' eh ragazzi 2003 se la gioca bene 2003 se la gioca bene molto bene tant'è che sta cercando non gli basta il pedone giustamente non gli basta il pedone sta cercando qualcosa di più vediamo se troverà questa mossa forse vuole svilupparsi al massimo non lo so anzi no su questa no niente qui devono catturare semplicemente ok piuttosto vediamo il nero qui cosa può giocare può giocare mamma mia che brutta situazione che brutta situazione la serie dall'alfiere concede al bianco la coppia degli alfieri che sono fortissimi perché questi alfieri poi controlleranno queste diagonali mamma mia io abbandonerei cioè fossi il nero ero già con la bandierina bianca ragazzi a questi livelli le cavolate non succedono le sviste non ci sono poi partita a 10 minuti c'è tutto il tempo per pensarci tutto il tempo no c'è buon tempo per pensare quindi non c'è peggior cosa negli scacchi non quella di perdere materiale perché se vediamo come materiale sono pare ma non far giocare l'avversario e qui il nero non sa cosa giocare cioè veramente non sa che cosa giocare non saprei cosa giocare se questo alfiere glielo do è un casino se non glielo do questo alfiere questo cavallo boh si toglierà da qui torre di 8 però le due torri non sono in comunicazione anche se comunque questa torre è super difesa non lo so dopo vediamo anche torniamo un attimo indietro vediamo cosa sarebbe accaduto ragazzi su questo sacrificio andiamo avanti uh ha mosso il nero ha giocato donna in b4 donna in b4 con varie varie possibilità soprattutto questa questa anche interessante perché poi questo cavallo rimarrebbe sospeso dunque è una mossa interessante vediamo il bianco che soluzione creativa trova perché il bianco trova sempre soluzioni creative e fu così che giocò alfiere g3 vediamo 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 è fastidiosa questa mossa è stato bravo il nero a vederla perché è fastidiosa cioè se il bianco perde questo punto diciamo che tutta la sua struttura inizia a vacillare e ora però c'è anche sotto questo alfiere eh alfiere g3 anche questa mi piacerebbe analizzarla dopo per capire se era la più forte se era la migliore adesso il nero deve essere coerente con se stesso tac su donna b2 questo cavallo crolla attenzione attenzione la donna potrebbe rimanere intrappolata poiché ci sarebbe cavallo in b5 e torre e la donna è intrappolata attenzione attenzione pedone avvelenato pedone avvelenato che non si può catturare perché questo cavallo controlla sia questo cavallo che questa casa di fuga della donna e dopo torre b1 la donna non può andare qui perché c'è il cavallo donna intrappolata interessante interessante trappola offerta dal bianco sembrava una mossa innocua di ritirata invece c'è il trappolone c'è il trappolone che ovviamente il nero avrà già visto e vediamo che cosa intende fare nero sempre a corto di tempo spazio tutto b6 non si può giocare perché ci sarebbe subito alfiere qua e quindi questo alfiere rimane ancora intrappolato per un po' di tempo questo non si può fare ok ora l'idea è quella di giocare questa mossa si previene anche l'entrata di cavallo qui per intrappolare la donna ok ora questo punto è in pericolo questo punto è in pericolo davvero interessante bella questa partita ragazzi veramente avvincente allora vediamo il bianco dovrà mica giocare la poverissima torre b1 ma no dai allora eh non è che c'è granché alfiere b3 così 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 l'alfiere si mette su una buona diagonale difende il proprio pedone proprio alfiere b3 b5 eh il nero riesce a liberarsi no non è vero non può ancora liberarsi perché c'è il cavallo quindi prima si sposterà la torre poi si cambia l'alfiere si cambia l'alfiere e poi b5 con l'idea di andare qui una volta che non c'è più il cavallo quindi penso alfiere b3 a meno che non si voglia dare subito così a gratis un alfiere per guadagnare un tempo ma a pro di che non lo so tre minuti attenzione attenzione bianco in z not alfiere b3 ci convince ci convince alfiere b3 non convince il bianco perché è lì che pensa 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 e ripensa quando solitamente si pensa così tanto vuol dire che si sta calcolando un sacrificio solitamente quindi magari sta pensando a cavallo a3 a3 sacrificio di b2 e poi cavallo c4 e si perde la donna no si perde questo cavallo cattura fatemi capire anche a me fatemi capire anche a me cosa sta succedendo donna f3 per proteggere questo cavallo e alla prossima torre qui si perde la donna però la donna ora si può ritirare in b6 e scamparsela vabbè comunque è stato un buon sacrificio per una buona attività donna b6 subito donna b6 subitissimo altrimenti ti arriva la torre ti arriva la torre sta cercando un controgioco vediamo se ovviamente ci avrà anche un compito molto interessante questa donna quella di impedire la spinta b5 vedete come questi giocatori molto forti fanno mosse che sono sia diciamo delle trappone ma sono anche offensivi la donna qui in f3 è veramente veramente molto forte geniale bella 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 eh ci sono un po' di cose ci sono un po' di cose da considerare si può fare anche torre qui dopo se non toglie che è la donna 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 b6 torre di 8 e chi si è visto si è visto si torre di 8 torre di 1 vediamo vediamo un po' ma mia poverino il nero però attenzione che il bianco sta sta avendo gravi gravi problemi di tempo che cosa ho giocato ho giocato torre qui minacciando questa minacciando questa e se donna qui fammi pensare un po' la mossa così che è distinto mi viene bene o anche questa esatto anche questa anche questa povera torre povero pedone e il nero non so come svilupparsi ok dai 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 bianco dai che stai giocando una partita veramente bella veramente bella però devi darti una mossettina altrimenti la perdi per il tempo tra l'altro non ho visto se c'è l'incremento o meno delle mosse ma credo di no adesso guardo bene quando si ferma qui col tempo allora cos'altro si può fare in questa situazione in questa situazione il nero ha un pedone in più ma è completamente stritolato da un'anaconda praticamente la cattura qui ma ma non la consiglio ma neanche cioè gli fai un favore gli apri gli apri un po' di robe io non catturerei lì d'altronde tante altre cose da fare non ce ne sono alfiere sta bene qui un minuto un minuto un minuto al bianco eh cazzarola cazzarola ridendo scherzando il nero comunque ha trovato il modo di difendersi la torre di 8 ha qualche qualcosa che non va eh niente il bianco ha catturato lì dopo analizziamo anche questa ragazzi perché non so se era la migliore in assoluto secondo me anche questa ha fatto un favore ha fatto un favore torre a7 torre a7 ovviamente la torre non può andare qui se cattura cattura di torre in settima e penso che se alleggerisca troppo la situazione io penserei a torre a7 anche se non è la mossa più felice così a vederla non è la più felice cambio cambio di torre attenzione alla doppia pressione su questo cavallo ora vediamo se il cavallo può togliersi no perché qui c'è l'alfiere però si cambierebbe si cambierebbe un po' di roba ok l'idea è quella di scambiare un po' di pezzi 35 secondi ragazzi 35 secondi il bianco dai bianco facci il numero finale hai giocato bene facci sognare facci sognare torre qui attacco su donna attacco su donna e dove la piazziamo sta donna su qui donna e due per tenere qua adesso si entra in gioco anche con l'altra torre anzi bisogna salvare questo alfiere che qui c'è qualche attacco di scoperta si tipo questo questa da dove l'ha tirata fuori bella non si può catturare poiché altrimenti si perde la torre con scacco matto bella questa bella 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 cazzarola mi spiace per il bianco ragazzi solidarietà per gmwgroff cazzarola che bella partita che era ah c'è l'incremento c'è l'incremento perché è ritornato a 7 secondi mi sa che era di meno comunque adesso vedremo come va a finire se sarà una di quelle partite infinite e adesso il bianco deve essere straveloce straveloce la prima che gli viene in mente deve giocare vai gioca gioca uff uff ma sa che non so tanto io ho paura di queste queste robe qui queste mosse cambio di donne e col cambio di donne riesce a sopravvivere con 5 5 secondi mamma mia qui il bianco ragazzi qui il bianco le sta cercando di pensare tutte perché è veramente deve cercare di muovere l'ampo che cosa può fare il nero che cosa può fare il nero per mantenere la tensione sto pensando questa qui alfiere qui secondo voi il nero cambierà le donne o rimarrà con la donna questa è una bella domanda questa è una bella domanda glielo chiediamo nero che cosa ha intenzione di fare tra l'altro ragazzi il nero ora restituisce il favore del tempo perché poi gli scacchi sono un gioco veramente psicologico quando sei così in vantaggio di tempo dice vabbè adesso c'è tutto sto tempo lui sa per perdere per il tempo me la prendo comoda e inizia a perdere tempo inutilmente con ragionamenti assolutamente inutili cambio in pre move 5 secondi guadagnati ragazzi io mi ci gioco la casa sul bianco vi voglio troppo bene ormai mi sono affezionato pedone pass head pound del nero vediamo un po' il nero tra l'altro ha due pedoni in più uno che è questo che è difficile da mandare a promozione ma l'altro ok torre qui con quale idea che se lui cattura qui che cosa fai? c'è qualcosa che non ho visto? no niente ok minaccia l'alfiere che lo ok buona mossa di cavallo dai bianco mi sa che col poco tempo a disposizione qui prima o poi ci fai la cavolata qui prima o poi ce la fai la cavolata attenzione inizia ad esserci un po' di pressione su questo punto scacco 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 di alfiere c'era lo scacco di alfiere si che c'era si che c'era per ora si prende ma non so se era buona non so se era buona ok finale di alfiere contro cavallo ok bello scacco di questo tipo qui re qui scacco non può andare giù di torre che questa casa è controllata dall'alfiere re f6 alfiere in e8 cade questo pedone cade questo pedone eh si bravo bianco bravo bianco quanta cattiveria quanta cattiveria quanta cattiveria quanta cattiveria ragazzi vi ho detto che bisogna scommettere tutto sul bianco dai adesso devi trovare un controgioco qualche manovra di cavallo per cercare di essere un po' brutta brutta g5 cattura cattura anche di torre onestamente re qui torre qui ah chiede il cambio di torri il bianco chiede il cambio di torri il bianco chiede il cambio di torri perché perché questa perché questa si potrebbe giocare torre h7 ma credo che siano posizioni piuttosto pai adesso bisogna vedere come manovrano i pezzi leggeri ragazzi qui c'è solo tecnica qui c'è solo tecnica allora bisogna cercare adesso di andare al centro della scacchiera con entrambi i re almeno questo è quello che dice la teoria degli scacchi minaccia di alfiero che l'alfiere si mette su un'ottima diagonale questo alfiere sta per ora dominando questo cavallo che comunque si può piazzare qui perché c'è il re che lo difende ok e diciamo che questi tre pedoni uniti attenzione qui si creano delle buone entrate per il cavallo si creano si creano delle buone entrate per il cavallo che attualmente non può muoversi ok mossa inutile di alfiere no cazzarola però se vai qui mi sa che era era l'unica per perdere qualche tempo occhio doppi occhio doppi eh bianco attenzione occhio doppi guarda come te lo dico quel cavallo infame guarda come te lo dico che tu sei sotto pressione da un po' ragazzi guarda che non è facile giocare con 5 secondi che a volte ti diventano 8 a volte ti diventano 10 cambio 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 uh ok eh il alfiere nel finale il cavallo è molto forte perché il cavallo può cambiare colore della casa in cui va vedi può andare su case scure su case chiare l'alfiere invece va solo su case chiare e anche qui ci vuole una mossa di allora adesso c'è il cavallo che controlla queste case il pedone controllava queste case attenzione attenzione il re può entrare il re può entrare scacco il re può entrare gli lascia entrare col re lo lascia entrare col re errore madornale errore madornale errorone madornale e dopo la cattura scacco si perde questo errore madornale del nero attenzione 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 nooo ah si no è tenuto è tenuto quel pedone meno male meno male ok 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 siamo ancora pari ragazzi mamma mia che partitona che partitona sacrificio è patta patta se non è patta questa se non è patta questa e niente patta patta poiché non si può vincere solo con re alfiere che bella partita ragazzi mi sono veramente divertito andiamo a vedere un po' noi siamo arrivati già a partita inoltrata torre 1 d4 ok ecco questo sacrificio qui si poteva fare domando non si poteva fare non si poteva fare poiché dopo alfiere e7 alfiere f4 il computer dice che non c'è abbastanza compenso per una mossa di questo tipo e va bene abbiamo capito come si poteva fare alfiere in se oh donna qui le alternative erano c3 che però è valutata mentre il cavallo qui è molto buona che è quella che è stata giocata ecco qui alfiere f4 alfiere f4 è stata una sboronata un'esagerazione bisogna catturare subito con il cavallo in d6 però alfiere f4 rocco corto cattura donna lì ritirata di alfiere perché la donna minacciava questo alfiere addirittura c'era questa donna d2 molto bella che difendeva rimaneva difesa difendeva e ovviamente permetteva anche robe di questo tipo questa era molto interessante donna d2 ritirata di alfiere ok ok qui alfiere b3 era quella che piaceva al computer a3 con la trappola che ovviamente il nero accetta e adesso donna f3 bella mossa bella mossa donna f3 è stata molto bella donna in b6 la torre che minaccia la donna donna che si sposta e ora questa era questa qui era sbagliata questa era sbagliata immaginavo che era sbagliata perché cioè è così è così un disastro per il nero non poter spingere questo pedone e facendo così gli regali la roba qui diceva addirittura diceva o torre in b1 esatto esattamente o alfiere per d7 alfiere per d7 adesso cavallo ok è andata così è andata così è andata così torre e adesso il vantaggio è del nero assurdo ma gli scacchi io non perdono fai una mossa che non è precisa e la paghi per il resto della tua vita torre per c2 mamma mia super vantaggio del nero che aveva torre in d8 che manteneva un vantaggio incredibile ok donna c3 cambio 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 ok vantaggio sempre del nero h6 torre qui una serie di manovre di pezzi vantaggio del nero che appunto poteva catturare il suo f2 probabilmente gli è sfuggita gli è sfuggita e con questa qui la partita è andata in pareggio vediamo come cosa poteva succedere dopo questa re h2 torre d8 e qui aveva sicuramente un buon gioco mentre dopo questa gioco si è appiattito totalmente posizione di pareggio incredibile guardate il computer sapeva già che la partita finiva in parità praticamente praticamente 20 mossi prima il bello dei computer ragazzi spero che questa partita vi sia piaciuto vi è piaciuta quanto è piaciuta a me non è stata una partita di grandi sacrifici grandi tattiche eccetera però ce la siamo gustata bene ovviamente il livello era era alto è stata bella ci vediamo prossimamente ragazzi per coloro che utilizzano twitch venite su twitch cercate matto scacco che ci divertiamo ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao 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 Grazie a tutti.